Per fare un panino, prendi due fette del tuo pane preferito. Per esempio il pane francese, quello bianco o quello integrale. Spalma i condimenti che preferisci su ciascuna fetta. Prova senape e maionese se vuoi un panino tradizionale. Mettendo prima le salse, sarà più facile distribuirle uniformemente ed evitare che sgocciolino. A questo punto, aggiungi la farcitura principale. Per esempio affettati, insalata di uova o hummus. Distribuisci questo ingrediente su una delle fette di pane. Se hai scelto un affettato, piega le fette invece di impilarle distese una sull'altra. Otterrai un'altezza maggiore e una migliore consistenza. Poi, aggiungi del formaggio se vuoi. Cheddar, provolone e formaggio svizzero tagliati in fette sottili sono ottimi formaggi da usare in un panino. Aggiungi quindi altri ingredienti, come pomodoro, cipolle rosse e lattuga. Per evitare che il pane diventi molliccio, metti la lattuga per ultima. Impedirà che il liquido di certe verdure, come il pomodoro, entri in contatto con il pane. Concludi coprendo il tutto con l'altra fetta di pane. Taglia in due il panino per mangiarlo più facilmente e dacci dentro!